ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco vitae carnica montana 30 per cento a cosa serve vitae carnica montana 30 per cento a un parafarmaco appartenente alla categoria degli massaggi e sport è commercializzato in italia dall'azienda gfm biotech srl informazioni commerciali titolare gfm biotech srl concessionario gfm biotech srl categoria di appartenenza massaggi e sport forma farmaceutica gel confezioni vitae carnica montana 30 per cento in gel 125 ml vitae carnica montana 30 per cento in gel 50 ml vitae carnica montana 30 per cento tubo 100 ml indicazioni prodotto cosmetico che può essere utilizzato anche in caso di manifestazioni dolorose a livello osteoarticolare adatto all'impiego cosmetico prima e dopo sforzo fisico e attività sportiva modalità d'uso il prodotto può essere utilizzato regolarmente più a volte al giorno su qualsiasi area cutanea stendere una noce di gel massaggiando delicatamente utilizzare solo su cute integra descrizione e caratteristiche attraverso un metodo di coltivazione che non prevede l'uso di diserbanti pesticidi e concini chimici le piante di arnica montana coltivate in valle d'aosta oltre 1400 metri slm e raccolte manualmente vengono sottoposti ad un processo di essicazione per produrre poi l'estratto di fiori di arnica montana che unitamente all'estratto di iperico rappresentano i principi attivi funzionali di questo gel cosmetico d'azione lenitiva che può essere utilizzato prima e dopo sforzo fisico e attività sportiva o come coadjuvante cosmetico per massaggi in caso di strappi muscolari e barra o manifestazioni dolorose dell'apparato osteoarticolare il prodotto non contiene conservanti coloranti composizioni profumanti avvertenze il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali in luogo asciutto e a temperatura ambiente non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso prodotto non testato su animali componenti e ingredienti acqua alcol arnica montana flower extract glicerina propilene glicol ipericum perforatum extract xantangam fenoxietanol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato